Sono tante le possibilità di visitare virtualmente i luoghi di cultura della regione siciliana in questo periodo in cui non è possibile andare per musei e parchi archeologici. Dai propri dispositivi elettronici è infatti possibile godere di tour multimediali nei vari siti che fino a poche settimane fa erano invasi da migliaia di turisti attualmente chiusi al pubblico per l'emergenza coronavirus. La regione dà questa straordinaria possibilità grazie ad una nuova app Sicilia archeologica realizzata dall'assessorato ai beni culturali, un'applicazione gratuita per smartphone e tablet scaricabile attraverso Google Pay e App Store che porta il visitatore in giro per 14 parchi archeologici siciliani e per gli itinerari subacquei della soprintendenza del mare con una ricca collezione di immagini e testi. Un suggestivo viaggio con la possibilità di approfondire temi legati all'archeologia e alle numerose tracce lasciate in millenni di storia. Vogliamo offrire da un lato, sottolinea il governatore della Sicilia, nello Musumeci una ricca e variegata proposta multimediale per rimanere vicini ai tanti appassionati e turisti virtuali fornendo spunti per un approfondimento o un momento di conoscenza anche rimanendo a casa. Il web riserva visitatori virtuali che vogliono accedere alla ricca offerta dell'isola, anche ai siti internet dei parchi, dei musei, delle biblioteche e delle aree archeologiche. Tra questi il portale del Parco della Valle dei Tempri di Agrigento offre numerose spunti di approfondimento e una ricca galleria di immagini. Grazie a Google Arts e Culture, raccolta online di immagini in alta risoluzione dei siti culturali di tutto il mondo, il Parco della Valle dei Tempri di Agrigento è accessibile in maniera virtuale con tour guidati e approfondimenti sulle bellezze del sito archeologico più visitato della Sicilia. Un viaggio possibile sia da computer che da dispositivi mobili o con l'app Arts e Culture. Anche la Copculture, concessionaria dei servizi aggiuntivi per la regione siciliana, consente di navigare all'interno dei luoghi culturali dell'isola con Culture Atom, una piattaforma web con la quale si possono realizzare interessanti esperienze di visita, gioco e intrattenimento anche per i più piccoli, anche alla Valle dei Tempri di Agrigento.